Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti tv, andiamo a vedere come si stanno comportando l'indice europea ad un'ora dalla chiusura, il DAX di Francoforte in timido rialzo guadagna mezzo punto percentuale, Caccaran 0,60%, il Fuzzimi 0,44%, sopra la parità quota 19.688 punti e il Fuzzicento è l'unico indice per quanto riguarda gli indici principali europei sotto la parità dello 0,12%, invece Wall Street in forte rialzo soprattutto del Nasdaq 1,44%, DAO guadagna quasi 200 punti e l'S&P 500 0,96% di rialzo, ricordo che domani parte la stagione delle trimestrali, si parte con il comparto bancario, quindi i grandi protagonisti saranno i cosiddetti majors del comparto bancario, ovviamente la prima azienda che riporta è JP Morgan, seguito da Morgan Stanley, Wells Fargo e Citigroup, perciò sicuramente domani sarà una giornata molto molto interessante, intanto rimane il focus sulle elezioni presidenziali e non solo, anche il possibile lancio di un pacchetto fiscale di ovviamente aiuti per l'economia, le famiglie e le piccole e medie imprese. Intanto in questo blocco parleremo di strategie di trading in tempi di volatilità, in particolar modo riferendoci al mercato valutario, siamo in compagnia di Max Mereghetti, buongiorno Max, ben ritrovato. Buongiorno Alexandra. Allora, innanzitutto che bel background, volevo farti complimenti perché ti ho visto solo ora, mi sembra che sei proprio ad un posto bellissimo. Grazie, sì, mi trovo a Punta Cana in Repubblica Dominicana e da tempo che mi trovo qua perché sono venuto nei miei giri perché è da più di un anno che sto facendo sostanzialmente il giro del mondo e poi, come tutti sappiamo, in fase Covid sono rimasto qua, non sono tornato a maggio e quindi sono otto mesi che sono qui, adesso in questo momento a Punta Cana. Allora Max, diciamo tre o quattro mesi fa, quando si parlava di mercato di valute, ovvero Forex, la volatilità mancava tantissimo. Poi sono scoppiati vari eventi e la volatilità ci accompagna tutti i giorni. Tu come stai tradando la volatilità e come fai a non perdere soldi, soprattutto perché questo è il punto che ci interessa di più? Allora, sulle singole operazioni è difficile non perdere mai soldi, però sul totale questo sì. Diciamo che gli elementi partendo dalla volatilità, gli elementi che guardo principalmente sono due, però per la volatilità io guardo quando il mercato partecipa. Quindi per esempio, prendendo un esempio recentissimo e poi andando alla fase Covid, dove ho fatto delle cose sicuramente significative, venerdì, quello che è successo venerdì, è una giornata a volatilità alta, alta per l'euro-dollaro vuol dire in questa fase intorno agli 80 pips e quando il mercato fa questi movimenti vuol dire che comunica che c'è una partecipazione e che comunica che c'è un interesse nella direzione che ha preso. Io quindi di solito utilizzo questi spunti di volatilità alta perché sono l'elemento più frequente, non ha una forma questa volatilità per cui una shadow particolare, un rimbalzo su un livello, un supporto eccetera, ma è semplicemente un quantitativo di volatilità importante che comunica che c'è stata una grande e importante partecipazione per farmi prendere la posizione. Quindi oggi magari siamo di fronte a un ritracciamento, ma la giornata di venerdì non ce la dimentichiamo. Quindi oggi c'è un piccolo ritracciamento, ma l'ultimo segnale che ci ha detto la volatilità è che il mercato ha un sentiment rialzista e quindi io colgo queste giornate come momento di entrata nella tendenza oppure come swing se ci sono dei momenti particolari e ho cavalcato così tutta questa fase, in generale negli anni lo faccio e anche la fase Covid. Allora, ho saputo che sei particolarmente focalizzato sul cambio euro-dollaro, in particolar modo nell'ultimo periodo stiamo vedendo un forte rialzo dell'euro-dollaro, tra l'altro il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro ma anche un po' nei confronti di tutte le valute. Raccontaci invece per quanto riguarda i target che possiamo immaginare nel breve medio termine per quanto riguarda il cable. Allora, mi fa una domanda fuori dalla mia giurisdizione. Allora, per quanto riguarda, io diciamo che analizzo l'euro-dollaro come punto di partenza. Perché? Perché sull'euro-dollaro io riesco a vedere la forza del dollaro, che sicuramente è calata tanto, e la posizione di incremento dell'euro. Questo lo riesco a vedere analizzando i dati degli istituzionali. Quindi leggo le posizioni degli istituzionali, vado a vedere quanti soldi la somma di chi investe sui mercati istituzionali ha posizionato in acquisto sull'euro o in vendita sul dollaro. E da questa posizione riesco a capire qual è il loro orientamento. Orientamento di banche istituzionali che fanno tutti i loro calcoli rispetto al valore giusto, fondamentale e puntuale di queste valute. Quindi una volta che io so che l'euro-dollaro per me è rialzista, sicuramente post-Covid decisamente rialzista, perché queste posizioni erano ribassiste fino all'anno scorso. Quindi durante la fase Covid hanno invertito la posizione in modo significativo. Quindi da 1,07 il prezzo poi è ripartito forte perché le posizioni sono state tantissime che sono state accumulate. È chiaro che quando l'euro-dollaro va e si porta dietro un pollaro debole, si rafforzano di conseguenza anche le altre. Quindi abbiamo visto l'Australian Dollar, il Neozelanda e il Cable, che sono le tre che io guardo per approssimazione e correlazione con l'euro-dollaro. Magari poi non le trado male guardo. Finalmente anche il Cable ha fatto la sua fase, diciamo così, di storno più importante dell'euro, è tornato alla media 200, ha fatto una configurazione possiamo dire a M, anziché il V-bottom degli altri cross e secondo me è pronto per la sua ripartenza, perché la volatilità sempre di venerdì ha dato un'importante qualificazione del momentum, di questa fase, ha rotto i livelli intorno a 1.30 e quindi da questo momento in poi per me anche questo cross si prepara all'upside, anche se per me questo non è un cross di entrata ma è un cross di correlazione, per cui se vedo che anche questo cross è nella tendenza dell'euro-dollaro, io ho più convinzione nella mia manovra su euro-dollaro, euro-dollaro che io sto comprando in tutte le salse, tutti i giorni, sui tracciamenti, intraday, daily, eccetera eccetera, per cui uso questo come una cartina torna sole rispetto alle correlazioni che la sterlina ha. Allora intanto vorrei chiederti quanto è esattamente il peso degli istituzionali sul mercato? Rispetto al fatto che poi il mercato andrà da quella parte? Anche! Allora rispetto a quest'ultima affermazione è elevatissimo solamente però su euro-dollaro, cioè i livelli che io vado a vedere delle posizioni del COT sono rilevanti, ci sono su tanti strumenti, ma io le utilizzo solamente per analizzare l'euro-dollaro, anche Larry Williams ne parla, che è famosissimo, tutti conoscono su vari strumenti, però quello che io ho osservato negli anni da quando l'euro-dollaro esiste e abbiamo creato anche degli indicatori per leggere meglio queste posizioni, è che il COT è estremamente potente e valido su euro-dollaro, punto, quindi la sua capacità predittiva è estremamente potente lì. Non mi dice se l'euro-dollaro sale oggi o domani, perché chiaramente le posizioni istituzionali sono lente da accumulare e lente da togliere dal mercato, quindi è una specie di media mobile lunga, quindi da prendere per i trend di medio periodo, però in alcuni casi anticipa il movimento del prezzo o comunque lo supporta. Quindi adesso in questo momento vediamo che dopo l'accumulazione delle posizioni in fase Covid siamo arrivati a livello di oltre 200.000, che è il record storico per livelli istituzionali sulle net position in acquisto su euro-dollaro e lentamente stanno calando. Lentamente vuol dire che c'è una specie di congestione, ne vengono accumulate nuove posizioni, ne vengono decrementate in modo significativo e questo sta accompagnando un movimento dei prezzi laterale su euro-dollaro. Una volta che io rilevo questo dato lo utilizzo per tradare euro-dollaro e le utilizzo per capire i correlati, quindi Audi, NZD, GBP e compagnia cantante. Allora intanto ci stanno arrivando tantissimi commenti per la tua location, soprattutto di apprezzamento che è abbastanza normale, però chiedono anche che leva stai usando. Allora la leva che utilizzo è una bella domanda, perché io non misuro le posizioni di rischio con lo stop loss, misuro la posizione di rischio con la leva, quindi io cerco di non superare certi livelli di leva quando apro le posizioni. In questo momento direi che sono esposto con una leva 2,5 circa, con la somma di tutte le posizioni, somma di tutte le posizioni che sono sempre solo a rialzo in questo momento. Le accumulo durante la giornata, le tengo deli, eccetera, eccetera, però in questo momento le posizioni più importanti sono in un totale di leva 2,5. Non vado oltre certe leve perché poi sul deli tenere la posizione diventa improbabile, quindi arrivo al 3, 3,5 in alcune fasi di punto. Ho fatto anche qualcosa di più impegnativo, non lo nego, durante la fase Covid ho fatto dei momenti in cui ero arrivato anche a leva 7, però cercavo di chiudere le posizioni nel giro di pochissimo. Allora, intanto parliamo anche di opzioni perché è senz'altro un strumento molto complesso, soprattutto quando si tratta di opzioni sulle valute. Quali sono le tue posizioni e raccontaci perché hai scelto queste posizioni? Allora, le opzioni sono il mio primo amore che non si scorda mai, nel senso che ho iniziato non con le opzioni ma con gli stock, però l'opzione è lo strumento grazie al quale ho deciso e ho potuto passare al professionismo perché è uno strumento molto complicato come dici tu, però molto flessibile. Perché si possono fare delle cose che aiutano la tua previsione ad essere più statisticamente ragionevole. Se io compro l'euro dollaro e sbaglio di un pip e va giù da quel momento, la posizione va in negativo e non posso farci un granché. Sì, posso mettere mano, aggiustare, ma è tutto molto meno flessibile. L'opzione ha il vantaggio di rendere più accogliente la propria previsione. Quindi se per esempio io oggi avesse una previsione rialzista sull'euro dollaro anziché comprarlo a 1,18 e 10 che batte adesso, che fra l'altro l'ho comprato, volessi per esempio scommettere sul fatto che rimane sopra 1,17 e 17, che ci sta perché è l'ultimo minimo eccetera, quindi una posizione più dolce, più accogliente, potrei per esempio tentare di fare un'operazione in opzioni che guadagna se il prezzo sta sopra l'ultimo minimo di 1,17 e 17, che statisticamente capiamo tutti che è più facile da realizzare come previsione. E lì potrei fare una strategia combinata, fatta da 1 o più opzioni. Ecco, in effetti volevo chiederti anche in questo caso di Covid in particolare, la volatilità è un tuo amico o meno? Allora io cerco di fare in modo sempre che lo sia. Se trado con le opzioni cerco di incassarla perché comunque abbiamo una volatilità che adesso è abbastanza in range rispetto a quella che abbiamo avuto proprio nella fase topica. Se invece devo andare a fare direzionale, quindi acquistando per esempio lo strumento Forex e il sottostante, allora cerco di utilizzarlo in tendenza. Sostanzialmente in questo momento a me non dispiacerebbe una posizione in opzioni fatta per incassare il range laterale tra 1,17 e 1,19. Quindi siccome il mercato è fermo da più di 60 sessioni dentro al minimo di qualche giorno fa ai massimi di 1,19 e 1,20, io incasserei una colonna put e la terrei lì perché ha la volatilità comunque abbastanza media e cercherei di portare a casa tra i 7 e i 15 giorni questo 3D in range. Se dovessi fare le opzioni in questo momento farei questo tipo di operazione, che è un'operazione che sto cercando di fare da diverso tempo, da quando il mercato ha testato 1,19 e ancora 1,18 e 1,80 e ha cominciato a muoversi più in modo significativo sopra e sotto quei livelli. Credo che sia la cosa più ragionevole e ovvia da fare sull'euro dollaro. Che cos'altro stai seguendo giusto per informazione per i nostri telespettatori a parte il mercato Forex? Allora, a parte il mercato Forex, di cui io praticamente sono diventato purista, perché sostanzialmente prima facevo opzioni su tutto, però sono diventato il super specializzato lì, io seguo sicuramente gli indici, perché sono il vero motivo da cui di solito parte la volatilità. Quindi l'S&P 500 e o il Nasdaq sono i due indici che secondo me rappresentano un po', oltre che il top dell'economia americana, un po' la cartina tornasole di tutto il mondo e quindi io li guardo perché dai loro movimenti possono scaturire, uno, fasi di volatilità importanti che poi vanno a ripetizione, a domino, si spostano su tutti gli altri mercati, due, perché hanno un contenuto fondamentale rispetto al valutario. Quindi se io in fase Covid mi sono accorto che i mercati valutari hanno aumentato di molto, i mercati finanziari hanno aumentato di molto la loro volatilità, è chiaro che questa volatilità non me la ritrovo sul valutario, punto uno. Punto due, come tutti sappiamo alcuni valutari sono correlati all'inverso e vengono ritenuti beni e rifugio rispetto ai mercati finanziari, per cui le fasi di crash sono le fasi in cui queste correlazioni spesso prendono vita e sono le fasi in cui comunque la volatilità va ovunque. Per me osservare l'S&P ai massimi che ha fatto una correzione importante da 3.500 errotti giù fino alla media mobile a 200 e sapere che il mercato non cresce a mareggia è importante perché vuol dire che le volatilità che mi aspetto sul valutario sono comunque medio normali. Io quello che stavo osservando in questi giorni insieme a chi mi segue è che questa discesa da 3.800 circa fino alla media mobile a 200 circa poteva prestarsi per una V che poi è accaduta e si sta chiudendo intorno ai massimi, adesso siamo a 3.500 però non manca molto ai massimi ancora, quindi è accaduto sostanzialmente quello che mi aspettavo. Siamo di fronte a una volatilità molto reattiva che spesso fa degli spike sia sugli indici che sui valutari, quindi va a fare dei movimenti dritti fino a un punto e poi li ritraccia sostanzialmente in modo simmetrico al 100%. Intanto vorrei anche chiederti se stai guardando soltanto l'analisi tecnica o anche quella tra virgolette dico fondamentale perché siamo in un momento molto delicato per quanto riguarda gli Stati Uniti proprio alla luce delle elezioni perché manca in effetti meno di un mese. Quindi quali sono gli indicatori che stai osservando di più prima di prendere qualsiasi decisione? Come ripeto io l'analisi fondamentale sicuramente osservo i dati macro principali, quindi quelli che sono i tassi, quelli che sono le tendenze rispetto alle manovre che vengono prese. Penso che l'ultima, a parte la manovra dei tassi che sia un po' ridotta, è la cosa più importante che credo è stata annunciata quando ancora il mercato si parlava di qualche settimana fa, segnava i massimi su alcuni valutari, è appunto questa decisione della Fed di stampare dollari a tonnellate. Credo che la cosa si rifletta nelle posizioni degli istituzionali e quindi io seguendo loro seguo un po' quella che è la loro posizione rispetto all'analisi fondamentale. Personalmente penso che, qui a bozzo un parere personale, questa liquidità messa a disposizione dalla Fed e garantita dallo Stato americano, in parte, sia come in ogni business plan, dimensionata per quanto apparentemente in abbondanza, per un periodo. Quindi credo che se questo periodo, che qualcuno avrà calcolato, avrà stimato, chi lo sa, se non dovesse essere sufficiente per questa mossa, per questo intervento, allora sì, ci sarebbe un problema vero sui mercati finanziari e eventualmente, non solo da punti di vista fondamentale, ma anche da punto di vista speculativo. Fatto salvo questa cosa, che per ora non c'è, io non sono uno che vede crolli né in una o nell'altra versione della medaglia delle elezioni. Vedo semplicemente un mercato che, siccome ha avuto un grosso crollo a febbraio, che era anche fisiologico, dopo tre anni di crescita degli indici, per ora sta crescendo con fiducia e le manovre che stanno facendo dal punto di vista di politica monetaria, espansione eccetera, stanno mantenendo i mercati finanziari in una posizione ancora importante che regge. Però l'economia reale è l'economia reale, per cui bisognerà vedere quanto dura questa fase, che però per ora il mercato ha scontato sicuramente fino a primavera, direi che l'ha scontato, quindi ce l'ha in testa e per cui non vivrà sorpresa rispetto a questo. Allora, ultimissima domanda, perché parlavi di beni di rifugio, allora non posso non chiederti la tua opinione per quanto riguarda loro, bene speculativo o hedge tuttora? Allora, secondo me è uno strumento su cui, siccome gli strumenti alla fine vanno in tendenza, vanno tra volete di moda, nel senso che ci sono momenti per ogni strumento e quindi spesso gli investitori fanno fly to quality da uno all'altro. Siccome loro hanno avuto il suo momento di gloria quest'anno, per me è uno strumento che rimane in questo grandissimo laterale tra i massimi di quest'anno e i minimi 1855 circa, su cui secondo me sarebbe bene esclusivamente incassare i premi in opzioni, call and put, il laterale, quindi creare delle strategie, iron condor, sell strangle, quello che si vuole, però per incassare questo lateralità enorme che oramai è iniziato dai massimi, si parla di, sto guardando il grafico, 7 di agosto di quest'anno e che tuttora è in un grande trading range, per cui più che andare a accumulare posizioni che sono in congestione eccetera, è molto più redditizio in questo caso incassare premi, volatilità e tempo sulle opzioni. Se dovessi poi decidere per forza di fare qualcosa, lo compro piuttosto che venderlo, però lo compro da tenere in portafoglio con una leva bassa. Ottimo, grazie mille a Max Mereghetti, grazie mille e ovviamente buon giro, buone vacanze. Grazie mille, alla prossima Aleksandria. Alla prossima Max. Allora io, adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi vi lascio in compagnia di Serena Cappelletti e The Mobility, grazie mille per averci seguito intanto e buon pomeriggio.